Aggredito e derubato alla fermata del tram in Prato della Valle, è successo il 23 aprile scorso a un diciottenne di ronchi dei legionari, presi e denunciati per rapina in concorso gli autori dell'aggressione. Sono due ragazzi di 18 e 20 anni, padovani di origini moldave, che quel pomeriggio spinsero il coetaneo di origini brasiliane, riuscendo a impadronirsi del suo cellulare prima di scappare. Non si sa se i tre si conoscessero. La scena fu vista da molti testimoni e ripresa da alcune telecamere. Il tutto ha permesso agli inquirenti di identificare gli aggressori e di denunciarli. Prato della Valle non è nuovo a fatti di violenza tra giovanissimi.